Gli oratori sono una delle grandi tradizioni che proviene dalla storia italiana. Sono effettivamente più sviluppati al nord che al sud, ma sono stati una forma molto intelligente per dare spazio e protagonismo ai giovani. Hanno vissuto una loro parte difficile negli ultimi vent'anni. Io credo che oggi possiamo chiamare gli oratori, possiamo chiamare gli spazi per i giovani, possiamo pensare anche alle scuole nella parte quando non sono più utilizzate per la didattica. Potrebbero essere oggettivamente degli spazi perché i giovani, ahimè pochi e sempre di meno nella società italiana, trovino un nuovo protagonismo. Ricordo che senza i giovani nessuna società ha un futuro, tantomeno nessuna società può pensare di cambiare in bene. Quindi c'è bisogno che gli adulti facciano spazio a questi giovani, abbiano il coraggio di essere anche un po' provocati dai giovani, ma non solo per regalargli i titoli di coda di un film girato dagli adulti, ma per farli essere protagonisti di un film nuovo.